Ragazzi, non so se è normale, siamo a Desio e sembra una pubblicità Vabbè, la veccia potrebbe anche togliersi, signora Ride Quanti begli animaletti ci sono E' impressionante, eh? Guarda qua gli animaletti che ci sono Che bello, c'è pure il pastore che arriva Sta arrivando correndo con un agnellino, si era perso Eccolo qua, vabbè, questo è quello che succede a Desio Mica, l'agnellino italiano, ha lo scudetto d'Italia Mamma mia, questa è la bellezza di Siana Che figata Ciao raga Ciao raga